Si tratta di teatro, però in un parco archeologico, il Parco archeologico del Sodo a Cortona, quindi utilizziamo il mezzo del teatro per valorizzare un patrimonio culturale. Il Parco archeologico di Cortona spalancherà di nuovi cancelli al festival teatrale organizzato dall'Associazione Culturale Rumor Bianco. È infatti tutto pronto per Teatro archeologico 2024 in programma per il 19, 20 e 21 luglio. L'evento è promosso da Museo Mike, Comune di Cortona e Accademia Etrusca in collaborazione con molte realtà del territorio. Sia venerdì, sia sabato e sia domenica siamo in orari, partiamo alle 5 e mezza fino alle 8, 8 e mezza. A parte domenica siamo anche la mattina e sono tre appuntamenti teatrali, ma non solo perché ci sarà una mostra, archeologia del presente, un tolco, un palio Giulierini, sabato una visita guidata domenica mattina, una colazione col Vasari, un laboratorio didattico domenica, wine testing, gelato, quindi tante attività. Dico brevemente i tre spettacoli che saranno ospiti, che saranno Corri Daphne, quindi giocare con il mito con Edi Laria Carlucci, sabato invece Iomini, una compagnia toscana con la Coppa del Santo, uno spettacolo molto divertente, interattivo. Domenica mattina ci sarà uno spettacolo invece in anteprima, che sarà a colazione con Vasari, proprio un omaggio a Vasari. E finiamo domenica un'aspettando il vento di Econ Luigi D'Elia, uno spettacolo di crescita e di formazione. Per prendere aperta gli eventi è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo un'email a prenotazioni at rumorbianco.it ed è possibile acquistare i biglietti in anticipo su Eventbrite.